A Falcade, pensate, che è una rinomata meta turistica che tu sicuramente conosci, sulle Dolomiti, la musica si ascolta in alta quota con un concerto, pensate, dell'orchestra ritmico-sinfonica italiana. Roberta Cannata per noi. Siamo a Falcade, tra le mete turistiche più rinomate delle Dolomiti venete. Lo scorso inverno un'alluvione ha devastato questa foresta, ma oggi gli strumenti dell'orchestra ritmico-sinfonica italiana, costruiti con i legni pregiatissimi di questi meravigliosi alberi, suoneranno per raccogliere fondi. Il concerto sinfonico si chiama La mia terra e non poteva esserci introduzione migliore che il canto della terra di Andrea Bocelli. Nel Bosco degli Artisti nulla è lasciato al caso. Questi sedili sono stati ricavati dai tronchi sradicati dalla tempesta dello scorso inverno. Maestro Diego Basso, come nasce l'idea di questa manifestazione e soprattutto so che è stata inserita nell'iniziativa dei Dieci Anni Dolomiti Unesco? Nasce da un video che ho visto in Regione del Veneto, faceva vedere una devastazione. E lì mi è nato nel cuore questa cosa di andare in mezzo al bosco. È una gioia essere qua. Ed è il momento del repertorio internazionale, con l'adattamento di una canzone di Michael Jackson, Heart Song, la canzone della terra. E l'orchestra suona Imagine di John Lennon, il canto del sognatore che immagina un mondo senza barriere. Un concerto emozionante che ha toccato il cuore di tutti noi, perché questa è... Musica! 1, 2, 3, 4 Chi fermerà la musica?